ciao creatura io sono un'ecca di splendente e benvenuta ben tornata nel regno di cosa è? A-S-M-A questa sera guantini bianchi guantini bianchi guantini bianchi guantini bianchi make up viola e i vicini che urlano sotto la mia finestra yeah e guantini bianchi make up viola ti piace questo make up viola? perché volevo essere in tema in tema anche se è agosto è solo inizio agosto diciamo ma iniziamo già con lo spirito di halloween summer win it's summer win apriamo insieme questa sera una mystery pack mystery pack mystery pack mystery pack mystery pack mystery pack di halloween che mi ha spedito direttamente da temu non è una collaborazione ma una creatura del regno di Guzai A-S-M-A-R ha fatto un ordine su te e me la mandò direttamente a casa grazie perché Brunilde come me ama 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 halloween e così ha detto che avremmo delle cose uguali di halloween entrambe perché sono anche cose che alcune cose le ha comprate anche per se stessa quindi è stata un'idea bellissima grazie mille Brunilde non vedo l'ora di vedere che cosa mi ha mandato e ci sono regolazioni cose per la casa già anticipo che finiranno sai dove la casa nuova che spoiler finalmente hanno quasi finito le scale perché hanno insolito gli stanno mettendo la ringhiera poi devono fare cementare ma aprire ci siamo quasi insomma quindi dopo dovrò sistemare tutta la casa e portare le mie cose voglio arredarla in stile halloween per tutto l'anno ma questo lo vedrai sul mio instagram qui su youtube non credo di mettere nulla di così personale le cose più personali le metto su IG quindi se sei interessata a questa cosa seguimi su instagram mi trovi con il nome catesplendente mi sembra più intimo capito? non lo so vorrei farti sbirgiare cosa c'è? cosa c'è? cosa c'è? ok dal profondo dei magazzini di demo vediamo che cosa mi ha regalato Brunilte sono troppo curiosa sono qua da diversi giorni perchè ho avuto un problema col microfono e non sono riuscita a girarlo prima e finalmente ho giro giro dopo giorni che ho questo pacchetto che avevo un sacco di curiosità di aprire e di guardare dentro ma ho spietato il video perchè a me piace di più fare la reaction proprio tra virgolette in diretta finché registro cos'è? una coperta forse? mi sembra una cosa tipo orbita soffice di pile ma hai messo uno senza occhiali potrebbe anche non esserlo ho i guanti ma nonostante ciò riesco a sentire la morbidezza quindi strano strano eccolo qua wow è un coprigatto è la coperta per Sam di Halloween no vabbè adoro è una copertina è una copertina piccolina sembra proprio una coperta per Sam con allora è un'arancione chiaro chiaro le due ore che sta ambulanza gira qua vai e vai in ospedale fa casino vabbè allora stavo dicendo questa coperta piccolina che sembrerebbe per Sam e allora adesso che è passata l'ambulanza scommetto che mi saranno a trappanare vabbè comunque se dicevo ehm c'è una zucca 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 di Halloween poi c'è un fantasma un fantasmino poi c'è il calderone poi c'è il pipistrello poi ci sono delle delle foglie delle foglie molto sia autunale che eh stile Halloween quindi va bene va bene per tutto l'anno perché tutti i giorni sono Halloween si stanno già trappanando tipo spero che non si senta poi c'è anche non dimentichiamoci del cappello della strega e la candela che bella bellissimo questa ehm potrei anche se non metterla sopra il letto solo per fare ehm per per estetica oppure anche sopra una poltrona visto che è piccolina potrei ehm anche se no tanto se la metto sopra una poltrona ci va Sam sicuro a dormire quello diventerà il suo posticino per per l'inverno per tutto l'anno per l'inverno e la autunna certo come no per tutto l'anno e se mi vedete un po' scocciata è perché appena è passata un'ambulanza che è arrivata adesso i vicini stanno tirando sulle persiane adesso stanno tagliando l'erba trappanando non so sento dei rumori avevo iniziato prima apposta per che sapevo che poi si attivavano i vicini no è passata 20 minuti sta ambulanza che mi ha fatto perdere un sacco di tempo e c'è un bello e c'è un bello cos'è? non si vede? forse così si vede c'è un riflesso allora credo sia uno stickers credo da finestra ma io la vorrei attaccare all'auto però non so se sia il caso perché la mia auto è nera quindi probabilmente non si vedrà nulla allora attaccherò la finestra è un adesivo spero stacca attacca e con questo fantasmino e ha tipo sempre un po' galaxy dai colori e verdi e azzurri blu e viola con scritto stay spooky non vorrei non vorrei dover chiudere la finestra perché sto schiatto anticaldo però forse dovrò farlo perché entrano troppi suoni brutti no non chiudo c'è troppo un'arietta piacevole quindi mi dispiace ci attacchiamo a stoccà questa sera e anche ci sono dei suoni vabbè gli uccellini non danno fastidio però sennò si muore di caldo sto già cambiando colore avevo un colorito più morto prima più in tinta con Halloween però vabbè tendo più a un Freddy Krueger color ho tirato su tre cose per sbaglio piano ecco a te piano una cosa per volta ok allora questo wow 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 hai sigillato molto bene io voglio pittinare io voglio pittinare non ci vediamo adesso sì niente devono tagliare l'erba a tutte le ore campani di nuovo che disastro questo video sempre quando ci tengo a fare un bel video sempre che succedono tutti questi imprevisti dovrei fregarmi fare sempre dei video fatti così no questo non lo rifaccio perché è una reaction è una reaction quindi non posso ricarlo comunque perché è una mystery bag se la apro che l'ho già visti che mystery è no? vabbè allora vedo una praticamente una settimana che voglio farlo comunque questo è eh una paletta niente mi tocca chiudere no io non chiudo c'è troppo fresco va fan 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 lo lascio aperto perché sta entrando l'arietta troppo piacevole allora dicevo è una paletta per la cucina quindi ci puoi tipo in silicone ci puoi girare gli hamburger le uova quel che ti pare anche anche prendere i pezzi di pizza dalla teglia che ho fatto che faccio sempre una pizza troppo buona e posso prenderne con questo che è bella è bellissima e che forse lei ce l'abbia devo fare un video di bloopers solo per questo da mettere nell'altro canale perché cioè per farti capire cosa succede durante un video smr comunque questo è il perché vedi perché perdo sempre il filo del discorso nei miei video con le cioni tagli o a volte mi dite ma prima parlavi con un tono prima parlavi con un tono poi non c'era il più alto perché mi devo fermare cento volte comunque questa è la paletta troppo bella in questo modo in questo modo utilizzarla quasi mi dispiace aspettare di andare a vivere la però non lo voglio usare qua voglio usare tutte cose nuove lì tutte belle estetiche questo credo sia se non sbaglio da usare combinati con questo credo sia un appoggia mistoli o cose varie credo credo se sbaglio scrivimelo che dura nei commenti questo qua non lo apro tanto si capisce cos'è lo stesso ed è tipo in bambù credo ecco un cavo dentro leggermente con questa figura di fantasmino super carino questo non so che cane sia non credo sia la luna ma potrebbe essere perché la padrona la schiaffa sempre sotto la mia finestra da abbaiare con tutto abbiamo un parco gigante no? deve stare a abbaiare sotto la mia finestra benissimo poi quindi avevo preso per taglio quattro cose direi adesso così perché c'era questa sotto allora questi sono degli adorabili pipistrelli di carta con il loro biadesivo che te lo dico a fa' questi andranno sul muro sempre di la in campagna anche poi se li mettessi fuori potrei attirare quelli veri che ci sono oh guarda c'era un mio amico li vado anche io poi questo cos'è? si devono usare tutto io non so di plastica vorrei capire il materiale pensavo pensavo fosse un copricuscino in realtà è un runner ma guarda un po' un runner che userò tutto l'anno wow grazie a meno che su demo non prenda magari un runner natalizio un runner estivo che però non so cosa potrebbe avere la frutta forse è un runner primaverile ma anche no primaverile fiori però questo per adesso verrà usato tutto l'anno poi se in caso trovassi dei runner specifici per ogni stagione potrei anche cambiarlo solo se li trovo per ogni stagione nonna a meno che non ne trovo uno fiori che potrebbe anche sai che in questo periodo fiori? eh non so un attimo che i vicini devono urlare sotto la mia finestra non c'è altro ah che bella arietta non posso chiudere la finestra adesso devo stare attività con la schiena scusate perchè è una vertebra spostata allora andiamo a vedere cos'altro troviamo in questa mystery pack tra l'altro un sacco di colbrunile grazie mille mamma mia cioè non so neanche cosa cosa dire comunque ehm questo è uno stampo in silicone perchè dico in silicone perchè in silicone può essere usato per fare tante cose questo vedo che ha il simbolo che può essere usato per alimenti infatti non lo tra virgolette rovinerò per farci delle crezioni in resina ma pensi potrei farci o del pane a forma di zucca o dei muffin oppure dei mega chiaccioli no i mega chiaccioli no bene adesso anche la macchina ehm che bella mamma mia mi piace perchè ha anche due tipologie di stampino vero cioè non so se si vede cioè c'è un pello di gatto come è possibile appena aperto aiuto no perchè riprende da qua ehm c'è la zucca con il picciolo e c'è la zucca senza oddio aspetta forse c'è questo sopra questo sotto forse forse posso fare due cose che poi si uniscono oddio oddio che idea potrei fare il pane poi lo taglio e lo lo unisco e faccio tipo dei mini panini a forma di zucca con il sopra e il sotto oddio si potrei farlo oppure me ne frego e li uso separatamente cioè ne ho sei perchè sennò avrebbero tre panini e basta che per me si impastano comunque anche volendo potrei fare anche delle pizzette tipo che bel video allora sto passando una strana nel mentre stavo dicendo e poi poi l'estitrostatico questo stampino sta tirando dei peli che sono stato attaccato a un microfono non so come perchè lei non ci va ma mi stai della fede prendere l'impasto per la pizza spiaccicarlo poi farcirlo con non lo so mozzarella e pomodoro e chiuderlo e fare appunto queste mini succhette di pizza tipo ripiena non so gazzoni gazzoncini al di zucca non so e mi stanno avendo un sacco di idee alla stessa moto lo posso fare però ripiene di nutella per dire oppure potrei fare il pane direttamente il pane alla zucca e schiaffarlo qui dentro e faccio ho dei muffin alla zucca troppe idee troppe idee creatura meglio che mi fermo qua vediamo cosa pesco non sarà mica un altro runner perché qua allora mi ci vogliono più più tavoli cosa che ho tra l'altro ma non è detto ma non è detto forse questo copricuscino perché mi sembra di intravedere una cerniera sarà forse un teschio non è un teschio non è un teschio però è un cuscino rettangolare e sottile quindi lo devo cercare fatto così da qualche parte sicuramente su amazon lo trovo anche forse al mercato e c'è un fantasmino io penso non un teschio invece no sorpresa surprise surprise si stanno tagliando l'erba l'hanno tagliata anche ieri wow me la tagliano ogni giorno comunque è morbido e ma secondo te creatura dove posso trovare un cioè è da divano un un cuscino così di queste dimensioni cioè rettangolare 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 secondo te da divano da letto non lo so perché cuscino mio credo che non sembra troppo piccolo per un cuscino da normale da letto forse da divano il divano il divano non credo di averlo non credo di comprare che lo avrò però ho delle poltroncine ereditate da mia nonna è una mia una di Sam sempre se no mi viene fregato da qualche parente visto che mi hanno già fottuto un tavolino ma vabbè devo fare in modo che di riavere la mia chiave che è stata data perché si suggettono imprevisti e poi gli imprevisti sono stati che mi hanno fottuto un tavolino bello eh ecco e quindi finiti i lavori mi ritorno la mia chiave e porto le mie cose perché ho paura che mi freghino ancora delle robe che belli che bella famiglia poco disfunzionale come mi dico quindi però magari più avanti lo posso prendere un divano ovviamente soltanto per appoggerci questo fantastico cuscino no stiamo scherziamo stiamo scherziamo dalla forma e dalla sofficità soffici sofficienza direi eh un po' di calze mi piace proprio bene wow questi mi hanno detto subito dei calzini con scritto ghost e tutti i fantasmini che bella che belle oh mio dio sono i miei nuovi calzini preferiti tra l'altro quelli di erano di sheen quelli di sheen che ho preso ehm tempo fa si stanno rompendo tutti e allora sai che al mercato mi sono dovuta prendere tutti quei calzini lì ma questi allora sì dai questi ritengo che a casa sono devo mettermeli subito però vabbè dai farò questo sforzo no li metto subito oggi ahah tieni troppo belli troppo belli non sono molto estivi effettivamente dai li teniamo no quel cacchio li li metterò stasera non 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 Quanto capace auguro? Tra l'altro questo pacco mi è arrivato aperto, come si dice da noi spregato, cioè proprio aveva un taglio, non so se è perché è il secondo pacco che mi arriva col taglio, non so se fanno dei controlli, penseranno, campani di nuovo, penseranno che mi compro la droga, non lo so. E il mio corriere, il maldestro, non lo so, comunque me ne è arrivato uno da Amazon, tra l'altro i croccantini di Sam, quindi era tagliato anche sia la confezione, cioè sia il pacco diciamo, che era di carta e sia anche il pacco di croccantini, quindi mi è arrivato il pacco di croccantini col taglio, con tutti i croccantini che stavano uscendo. E questo, che però per fortuna, anche se c'erano cose di stofo, non le ha rovinate, però si stivano un po' più attenti, ecco. Allora ci sono dei piccoli oggettini che ho estratto e che per fortuna non sono usciti dal buco, perché questi effettivamente avrebbero potuto, spero che non manchi niente, ecco. Questi potevano benissimo essere fregati o cadere fuori. Questa spilla che userò subito nella mia borsa o nello zaino, lascio un sondaggio, non so se posso ancora lasciare i sondaggi, ma magari lo lasciamo su Instagram. Se riesco a lasciare quel sondaggio, magari nella community. C'è questa spilla, è super estetica, tra l'altro, mamma mia, è bellissima. Bellissima, tra l'altro su Timor, tantissime spille stupende, ne ho viste già alcune. E vorrei prendere anche degli adesivi da attaccare all'auto, magari un giorno ti faccio vedere. E se ne ho uno con scritto Tonto Panic, proprio della Guida Galattica per autostoppisti, quello sicuro che prendo. E poi ho visto delle spille bellissime. Una del Corvo, anche. E un'altra anche della Guida Galattica. No, della Guida Galattica, sì, forse anche, però, una anche di Guardia della Galassia, perché io lancio le mie fisse. Allora, bianco su bianco, no? Così, forse? No, questo è bianco su bianco. Bella! È questo fantasmino che ha la zucchetta. Ha la zucchetta, poi ha dei fiori in mano. Credo che sia un bambino travestito da... No, che è un fantasma, perché non è un bambino. È più inquietante sapere che è un bambino. Ma se è un bambino fantasma, è ancora più inquietante. Ecco, questi sono i fiorellini, arancioni, è vero. Con i fiorellini, è vero, bellissimo. Sondaggio lo mettiamo nella borsa, cioè sulla borsa, quella che hai visto, era di demo. Era la borsa di demo, tra l'altro. La borsa o lo zainetto che è di action. Ti ricordi? L'ho mostrato entrambi nei miei video, quindi se già di che sto parlando, scegli tu quale la mettiamo. Ok, poi... Questa cosa che non... Che adesso mi è venuto un flash di un video da fare con questa cosa. Questa sembra una di quelle cose che acquisteresti perché devi arrivare al prezzo con la spesa di spedizione gratis. Ma sto che su tema non c'è, c'è di socio su Shein, quindi sicuramente non è stato acquistato per quello, ma mi sono fatta io viaggio mentale. Potrebbe essere una di quelle cose che acquisterei io per far arrivare la cifra alla spesa di spedizione gratis su Shein. Ovvero è una moneta con scritto yes, oppure no, oppure on, oppure no. La moneta delle decisioni, cioè che io sono indecisa, lancio una moneta, quel che esce si fa. Infatti farei un vlog così, con la moneta decide cosa faccio, tipo una casa del genere, farei, se ti piace l'idea potrei provare a farlo ovviamente, smr. Quindi girerei le scene, poi dopo avrebbe ridoppiato forse perché se solo al mattino presto, che sono neanche le 8 del mattino, c'è tutto sto casino fuori dalla mia finestra, immaginati proprio fuori di casa. E' ragione per il quale il vlog del mercato sono doppiati, ecco, cioè tolgo l'audio più che doppiato. Comunque non so se si... Beh, no, così no. Così forse. Yes, no. Bella. Sembra anche una vera moneta, cioè, non credo sia di plastica, credo sia proprio di ferro. Questa qua la metto dentro al portafogli. Poi, magari su cosa fare, decidete voi cosa chiedere alla moneta, e poi io chiedo la moneta e voi vedete, cioè, così lo facciamo bello insieme. Su Instagram sempre, quindi seguimi con il Lomecati Splendenti, che si va meglio a fare i sondaggini lì. perché è più immediato, c'è proprio la storia con i sondaggi, che si va molto meglio che su YouTube, ecco. Dalla grandezza potrebbe essere una decorazione per tutti, questa. potrebbe essere anche una decorazione da tavolo, sotto la mia finestra a urlare. Una decorazione da tavolo, anche da mensura. Io queste le avevo viste e pensavo fossero decorazioni, cioè, io le avevo cercato perché mi rilasso. Mamma mia, che ho tolto le fordiche di vernice. Ho cercato delle decorazioni da giardino di Halloween e mi erano uscite delle cose simili a queste. Non vorrei che magari le compravo, mi arrivano grandi così, già, capito? Ho metto in poggiolo io, eh. Ho metto in poggiolo. Forse è da torta. Non lo so perché è di compensato. Non lo so, magari Brunilde ci dirà nei commenti per cosa era stata acquistata. Magari pensavamo, perché può essere che anche la coperta si pensava fosse più grande. Oppure è stata acquistata apposta piccola per sé. Perché a volte su te lo succede. Si comprono delle cose che magari in foto sembrano giganti. Mi è venuto il dubbio che non stavo registrando l'audio. Ho fatto un colpo. e magari si pensa di prendere delle cose più grandi. Poi ti arrivano solo così. Credo, ultimo oggettino, perché dopo guardo meglio nel sacchetto, che non ci sia qualcosa di micro come la moneta o la spilla. Allora, voi non lo sapete, ma io ho il set completo di questi. Però uno in più non guasta mai. Io l'ho regalato tempo fa e l'ho messo via sempre per la casa. E sono questi cucchiaini a teschio che probabilmente sono poco pratici perché se ci giri il tè non puoi fare così perché cazzo tutto dai buchi. Ma forse anche un budino potrebbe cadere dai buchi, non lo so. Comunque sono fashionissimi e per l'appunto vorrei più avanti appunto acquistare quelle tazzine che hanno delle scritte dopo che bevi. C'è scritto tipo se è stato avvelenato o cose del genere perché vorrei usarli inabbinati a quello. Secondo me sarebbero bellissime. Cioè sarebbero perfette, no? Questi cucchiaini abbinati a... Non so se sono grandi o quali, penso di sì. C'era il set da quattro mi pare, quindi adesso ne ho cinque. Posso invitare una quinta persona ad avvelenare il mio tè. Tagliate nella testa. Quando scommettiamo che quando finisco il video fanno tutti i silenzio. L'ultima volta è successo questo. Ho dovuto interrompere un video all'improvviso perché facevano troppo rumore e poi due secondi dopo il silenzio ma va. Vabbè, comunque. Spero che questo video ti abbia fatto comunque rilassare. Mi fermo qua, volevo farne altri ma li farò più magari un altro giorno. Perché c'è troppo caldo e non voglio chiudere la finestra e c'è troppo casino, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, dettagli che tu vuoi. Di solito queste cose non le sai. Perché? E mi è piaciuto tutto tantissimo. Non vedo l'ora di utilizzarle anche perché significa che sono finalmente andata a casa mia. e grazie mille per un'ilde. L'idea della mystery pack mi è piaciuta tantissimo. Uno, perché è mystery pack. Due, perché è di Halloween. Uno, perché è di Halloween. Due, vabbè, insomma, a pari merito. Non è una classifica. Mi raccomando, dobbiamo provare a fare quel vlog e anche al sondaggino dove metto la spilletta che ho bisogno di te per decidere, ovviamente. Perché sono indecisa. E stasera mi metto già le calze. Tutto il resto lo metto insieme alle cose che ho acquistato su Tempo per la casa. Perché poi, finalmente, quando metteranno il cemento su quella scala che saranno finiti i lavori inizierò a portare le mie cose a svuotarla perché ci sono ancora le cose vecchie di mio nonno. Perché nessuno ha avuto la voglia quando quella casa non era di nessuno di portarli via. Quindi dovrò fare una bella pulizia. Cambio anche... Faccio una bella pitturata ai muri e una bella pulizia e poi porto le mie cose e faccio il trasloco. Ma prima ridammi quella chiave. Tipo... Ma queste storie le sai già perché se mi segui sui C lo sai già. Quindi le racconto sempre tutte le disavventure e le avventure anche però soprattutto le disavventure che mi accadono che me ne succedono almeno 4-5 al giorno 4-5 all'ora diciamo... Spero che questo video ti sia piaciuto come sempre ti auguro buonanotte buon relax comunque vorrei fare anche io un acquisto di di... su Temu Temu in cappana niente non riesco a finire questo video volevo fare anche io un acquisto di Temu di cose di Halloween quindi dopo mi piace ogni sera guardare se hai trovato qualcosa di carino nuovo anche di Sheen ma Sheen bisogna aspettare il periodo invece Temu lo trovi tutto l'anno quindi più bello io mi rilasso col tablet mi guardo che cosa c'è di Halloween sto già pensando a cosa acquistare e se tu trovi qualcosa che secondo te potrebbe piacermi o che pensi che sia veramente bello su Temu fammelo sapere me lo mandi magari su Instagram oppure non mettere i link su YouTube perché te lo te lo vanno in restrizione perché YouTube lo vede come uno spam quindi non mettete il link lì però sui G di solito rispondo a tutti a meno che non vada nelle richieste di messaggi allora a volte li perdo ma dopo ogni tanto vado a controllare quindi dopo comunque vi rispondo concludiamo il video grazie mille per un'ilde grazie mille te lo scriverò anche sui G perché ci sentiamo lì anche e e niente vediamo se riesco a concludere questo video da questo video farò un bloopers ho anche un video bloopers nell'altro canale quello è cato splendente e perché volevo ricominciare a metterci delle cose però sono sempre molto tipo titubante nel tornare anche perché lì volevo cambiare cioè ho dei progetti insomma però non spoiler perché magari dopo non riesco e allora non voglio neanche creare delle aspettative di cose che poi non avverranno mai oppure mi ti temo tu avevi detto che facevi così ancora non l'hai fatto ma se non sono riuscita capito cioè imprevisti ogni ora 5 imprevisti all'ora succede che non riesci a portare a termine quindi mi piacerebbe magari non dire più niente quello che arriva arriva quello che riesco a fare lo faccio lo vedi e sono paziente capito è che ho tante idee mi piace condividerle con te però forse penso che a volte è meglio stare zitti e poi fare se riesco a fare bene se no non creo l'aspettativa ancora che poi dopo se non riesci a farlo deludi le persone insomma di infiaggimenti miei magari te non te ne frega niente comunque spero che questo che ti sia piaciuto come sempre ti auguro buonanotte un relax ciao creatura